Ciao a tutti da Poderac, bentornati qui su Fernbus Ahimè oggi piove E siamo qui in questa zona perché eravamo andati dal meccanico Il meccanico ci ha fatto un po' di manutenzione Siamo venuti anche a svuotare i gabinetti Insomma abbiamo fatto un po' di cose in live su TikTok Per portarci avanti poi all'episodio che ci sarà oggi qui su YouTube Allora vediamo se oggi riusciamo a passare qui nel traffico o si blocca Speriamo di no Praticamente dobbiamo portare adesso i nostri amici calciatori Alla prossima partita di domenica Noi abbiamo un po' ricaricato di carburante Abbiamo proceduto con la pulizia del mezzo Ecco oggi che piove diciamo non è tanto conveniente il fatto che l'abbiamo pulito Perché appunto piove Vabbè che ti devo dire Non era prevedibile nel senso non ho visto il meteo Altrimenti avrei evitato Speriamo che il Bayern qui sia esperto a giocare con la pioggia Non so se pioverà anche domani Dipende perché oggi abbiamo praticamente finito di fare manutenzione al nostro autobus E domani inizierà la partita C'è il tempo rimane questo Ormai siamo a settembre Potrebbero avere qualche svantaggio O vantaggio perché ci sono alcune squadre di calcio Che se la cavano assolutamente Anche con la pioggia Ci sono altre che invece fanno molta fatica Notare graficamente i dettagli con la pioggia in questo gioco è incredibile Vi ricordo che Probabilmente nel primo quadrimestre dell'anno prossimo O addirittura fine 2022 Ci sarà la possibilità che questo gioco arriverà Su console Ecco perché lo sto riprendendo Vorrei vi ripeto portare almeno una volta alla settimana un gioco di autobus Tra Fernbus e The Bus O altri giochi insomma E spero di ottenere da parte vostra il massimo supporto Perché davvero è bellissimo questo titolo Chi vuole lo può anche comprare dal link qui sotto in descrizione Purtroppo il DLC football No Perché non c'è in sconto sui stand gaming Ho visto da parecchio tempo Però Fernbus si Ci sono anche dei DLC di mappe Particolari Oh O l'ho riparato l'autobus L'abbiamo toccato secondo voi Raga Un pelo Un pelo Io amo man Amo man per i suoi freni Anche nei camion Cavoli Frenano alla grande Posso andare un pochino in retromarcia Giusto per Non sentirmi troppo addosso a questo camion Speriamo quello non protesta Quello dietro Ok 43 chilometri E arriviamo Nel nostro Ufficio del club Allora stavo vedendo per sbaglio con mio padre Una partita E c'era Inter Bayern Monaco C'è praticamente la No Bayern Si Bayern Monaco mi sembra E c'era la mia squadra Io se non vado errato Quello che ho adesso è il Bayern Monaco Sicuramente È bella potente Perché ha fatto un c***o a leader Da quanto io so Insomma Squadra vincente Non si cambia Vediamo se anche a noi Oggi sarà così Oppure faranno Una brutta figura Un'altra cosa che ho scoperto Avete presente che Qualche giorno fa Non so se in live O se su youtube Siamo riusciti Ad entrare dentro le auto E a guidarle Pensavo fosse un bug E invece è proprio una features Del gioco Che puoi entrare Nei veicoli Dell'intelligenza artificiale Per quale motivo Perché volendo Li puoi spostare Come mi sono accorto Che è una features E non è un bug Perché Nel mio profilo Adesso c'è L'icona Grand Theft Auto Grande Un Praticamente Un'icona Che ti etichetta Come ladro di auto Quindi È una caratteristica È un easter egg Dai Possiamo definirlo Più easter egg Che bug O altro Che hanno aggiunto E c'è la relativa icona Anche su Su discord Davvero Molto simpatica Come cosa Apprezzata dai Posso dire Apprezzata sicuramente Notare sempre L'effetto Della pioggia Guardate Io Sono sempre stato Un grande Grande sostenitore Di questo gioco Proprio per L'aspetto grafica Unreal Engine Raga È imbattibile Anche se ti dirò Con Unity Tipo Construction Simulator Non è affatto male Non è affatto male Come gioco E Vale Anche lui La candela Unity Ti sta guardando Intorno È un Motore grafico Che un po' È sempre stato Considerato Di sottomarca Tipo Su Construction Simulator Non è affatto così Anzi È molto Molto più Avanzato Di quanto Possa sembrare Anche la fisica Del gioco Qui Su Unreal Engine Giochiamo Facile Facile Sto guidando Come un ubriaco Veramente Guardate Come un pazzo Ed eccolo qui Il Bayern Arena Addirittura C'è qualche Tifoso Qui Con l'Audi No Che Audi Con la BMW Taxi Perché però Se tu freni In continuazione Amico mio Lo cerchi proprio L'accordo Per l'assicurazione Allora Ci parcheggiamo Qui Volendo Ecco Magari oggi Giochiamo in casa Chi lo sa Oggi magari Giochiamo in casa E se giochiamo in casa Ovviamente Non dobbiamo Uscire con l'autobus Vediamo 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 Scendiamo Ci hanno parcheggiato Vicino a queste auto Andiamo Dal nostro Club Vediamo anche se c'è Qualche mail da leggere Qualcosa in particolare Perché effettivamente Da un po' Che non vedo E allora E-mail Non c'è niente Però Posto inviato Vedete L'altra volta In live Ho fatto questa cosa qui Ovvero Che puoi scrivere Le e-mail Questo non lo sapevo Tu premi Nuova e-mail Qui dici Cosa vuoi fare Prenotazione in hotel Ispezione Insomma Puoi fare Tante tante belle cose Continua Andiamo direttamente Al giorno della partita Vediamo se li dobbiamo portare O se giocano in casa Entra Ah ok Giocano in casa raga Oggi Quindi Non devo far niente Oggi sono A riposo E vediamo La partita Come va F-Munchen Contro Il Meierlaver Lavercousen Non so Allora Questo mi avete detto Bayer Monaco Ok E fin qui Ci sta Guardiamoci giusto I primi minuti Poi andiamo direttamente Al risultato Voglio vedere Chi fa il primo gol Dai raga Facciamolo Sto gol Succede Ovviamente Essendo un gioco Di simulazione Di autobus Non è che ci potremmo far vedere I calciatori Giocare Però già Questa animazione È molto Divertente Cacchio Qua vedo un gol Da parte loro Vai avanti Poderak Salta la partita Vediamo Abbiamo vinto Perso Pareggio 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 1 a 1 1 a 1 Sono curioso Di andare a vedere Cosa dicono I social network Cosa dicono I social network Vediamo Cosa dicono I social network Allora Stato dell'autobus Comunque Abbiamo solo I freni Da cambiare Potremmo Programmarlo La sostituzione Dei freni 52% No ma io finchè arrivo a 30 Chi se ne frega Stato dell'autobus È un po' sporco Ma Perché ha piovuto Cibo E acqua Ci dovrebbe Oddio il cibo manca Quindi potremmo andare Al supermercato Perché la partita È finita in pareggio Se ci fosse stato Rigore avremmo vinto È ingiusto Eravamo la squadra migliore Ragazzi Tenete i piedi per terra Tenete i piedi per terra Budget 6.000 euro Allora ragazzi Io direi Non so se andare Alla partita successiva Che alla fine Non abbiamo fatto Nulla di che Oggi Vediamo Allora ciao Per la trasferta di sabato A Berri Prenderemo il treno Per favore Vieni a prenderci La stazione in orario Puoi prenotare Una stanza di albergo Il giorno prima Per essere puntuale Alla stazione Ah ok Quindi questa volta Hanno preso il treno Gli infami Vogliono essere portati Giustamente Da Da Berlino Dalla stazione di Berlino A lì Quindi io posso Prendermi Un giorno Di hotel Ok Quindi vediamo Calendario Il giorno prima Posso andare A prenotare un hotel Quindi per farlo Basta che vado In posto inviato Scrivi Prenotazione E Prenotazione hotel Gentile signora Però presente Richieda prenotazione Per il 16 9 Vediamo Ok Sì il 16 Esatto Il giorno prima Quindi scriviamo le mail Che vogliamo andare A Berlino Raga Noi A Berlino Siamo andati Aspetta no Che carrozzeria Scrivi Prenotazione Invia email Ok Inviata Le mail Non so se rispondono subito Non so se rispondono subito Io nel calendario Comunque il giorno prima Andrei al supermercato Allora io direi Di andare a fare shopping In modo tale Che poi Ci dica Magari nel frattempo La risposta Ma non ci vado Al supermercato Voglio far avanzare Il tempo In modo che Forse ci è arrivata La risposta Via email Esatto Le confermiamo Ok Perfetto Adesso andiamo Al supermercato Così Acquistiamo comunque Qualcosina Che c'è da acquistare Assolutamente Avanza un po' Il tempo E andremo poi Direttamente Il giorno successivo All'hotel Ahimè Purtroppo Il supermercato Da dove giochiamo noi È lontanissimo Quindi vediamo Ma qua io non ho mai capito Dove è la strada Dove è il parcheggio Ok Questa è la strada Perfetto Perché vedi i cartelli Ciao ciega Ma compratemi Per favore Per il compleanno Un parasole Raga Perché qua Incredibile Ogni volta che c'è il sole C'ha cieca Che ora sono Sono le 8 Di mattina Quindi Stiamo andando al supermercato Proprio presto Presto Cerchiamo Di sbrigarci Per fortuna È smesso di piovere Quindi Viaggeremo un po' Più tranquilli Più sereni Io Oddio Sto spingendo un po' Troppo Il mio autobus Io comunque Ho una guida Molto sicura Come potete vedere Non faccio Non faccio mai incidenti Ok Raccontiamo Un'altra Barzelletta Adesso Allora Rimaniamo di qui Perché dobbiamo fare Inversione Non facciamo Troppi sorpassi Ho scoperto Vi ho già detto Questa cosa qui Dei furti Delle auto Che alla fine Erano Possibili Ma C'è Immaginavo Però non vale Per tutti i veicoli Perché ho riprovato Poi con qualche camion Ho detto Faccio Eurotrack simulator Su Fernbus E Bus simulator Su The Bus Cioè insomma A proposito di The Bus Raga The Bus è arrivato Un mega aggiornamento Guarda Ve lo devo portare Perché hanno fatto Qualcosa di pazzesco Addirittura Con un tablet Che puoi avere Nella vita reale Cioè Robè D'altro D'altro canto Comunque Qua abbiamo una bella scoda Ho sentito una sgommatina Del nostro autobus Ormai Quasi la strada La sappiamo a memoria Per andare Nei vari Avamposti Porca miseria Ma tu siamo Questo Cerca l'assicurazione Guarda che Frena Aspetta che mi avvicino E poi Frena Adesso accelera Disgraziato Visto che Mi stava schiantà Mi ha detto Non ti preoccupare Non ti preoccupare Poderak Eh vabbè Sti tipi Sti elementi Esistono Ecco guarda Guarda Mo mi avvicino Inizio a frenare Guarda Guardalo Guardalo L'hai visto Vedi adesso Non frena Mi avvicino Però frena E' fatto apposta Per forza Guarda Sono curioso adesso A meno che A me mi sa che esce di nuovo Questo sta a far giro giro tonno Questo sta a far giro giro tonno Orca miseria Che Togliete il flash Qui per favore Guarda Cioè io voglio vedere L'intelligenza artificiale Io mi avvicino Guarda Guarda Appena ti avvicini Vabbè ok Qui c'è la curva Quindi ci potrebbe stare Ma è fatto apposta Ragazzi C'è praticamente Quell'intelligenza artificiale Fata che se tu ti avvicini Ti frenano No va Non è possibile Due Ok Andiamo sul terzo Vediamo Se questo qua davanti Appena mi avvicino Frena E' progettato Così il gioco Vediamo No non frena No 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 ok Questo è il terzo caso Oddio però Se mi freni adesso Non ho il tempo Me l'ha frenata Perché Non ho la distanza di sicurezza Mi ricordo Al quiz patente Mamma mia C'erano le formule magiche Che dovevi fare Vabbè alla fine era facile Era facile Mi Bazzica adesso in testa Ma se invece della patente del camion Facessimo quella dell'autobus Non sarebbe così sprecata A massimo faccio L'autista di autobus Guarda lì Ancora lì Ma pensa c'è Tu dici Oh Poderak Chissà quanto hai viaggiato Ancora qua dietro Dietro lo stadio sto ancora Andiamo qui A destra E Entriamo dentro Aspetta 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 Perché è chiuso qua Ok qua è l'entrata Giusto Giusto No non avevo capito Fermo Poderak Ah no Pensavo fosse Perché c'era il rialzino No Ho detto Ma che è Qua non c'è Una fermata per gli autobus Però me la faccio io qua Proprio davanti Tacchete Qua non c'è mai nessuno Non penso di dar fastidio Scendiamo Compriamo Il cibo L'acqua ce l'abbiamo Non facciamo spese Troppo inutili Vedete Mettiamo 30 di salame La spesa l'abbiamo fatta Infatti Se andiamo qui Andiamo A calendario Che è successo Confermati la prenotazione Ok Facciamo le nostre Manovrine Dentro Il parcheggio Vedete come il gioco È bello lungo Non è che dici un gioco Che tu prendi E via In 5 minuti Fa il tuo gameplay No è un gioco Che volendo Per ogni partita Passa un'ora Eccoci qui Siamo tornati Allo stadio Vediamo Di dormire Prendere poi Il biglietto Per Berlino In realtà dovremo andare Noi con l'autobus A Berlino Immagino Non so quanto è distante Di qua Vedremo poi in chilometri Perché davvero È pazzesco Qua c'è un camion Che ci fa compagnia Quanto pare Guarda Tac Parcheggino Sempre ce l'abbiamo Qua riservato Praticamente Scendiamo Dall'autobus E let's go Bayern Arena Sto arrivando No vabbè Oggi non giochiamo più A Bayern Dobbiamo andare A Berlino E Dobbiamo prenderli Dalla stazione Ragazzi Perché la partita È finita in pareggio No Andiamo Venerdì 16 Oh raga Il mio compleanno Il 16 novembre È il 16 settembre Che dire novembre Podrak Devo andare all'hotel Vero Entra nel tuo bus Vediamo quanto è distante L'hotel Raga è distantissimo Raga Let's go Si vola a Berlino Si vola a Berlino Vero Guida fino all'hotel Di Berlino Mamma mia Quanta strada C'ho da fare Raga Quindi Probabilmente Questa strada La farò tutta in live Probabilmente Perché Ci vorranno Secondo me Tre ore vere Perché la mappa Qui La mappa È crudivo Che scala 1 a 1 Ma quasi E Niente Detto questo Spero che il gameplay Vi sia piaciuto Se così lasciate mi piace Prossimamente Andremo a Berlino Dove andremo a prendere Dalla stazione dei treni I nostri amici Vedete qui c'è lo stadio Qui c'è il mio hotel Io dovrò andare Praticamente in qualche stazione Di tre Eccolo qua Stazione ferroviaria Dovrò andare qui E Niente Mi raccomando Sostenete la serie Noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao